Il mese di dicembre, con la fine dell'anno, è spesso sinonimo di bilancio. Non fa eccezione il calcio, così per la Nisse e la San Cataldese è tempo di analizzare quello che è stato con la mente rivolta verso la seconda parte della stagione. Per la squadra verde Amaranto il 2022 si chiude con il dodicesimo posto in classifica, nel girone I di Serie D, dominato dalla corazzata Catania, a quota 19 punti e 10 risultati utili consecutivi. Un motivo in più per rinforzare la squadra in ottica salvezza. È stata una San Cataldese molto attiva sul mercato, infatti, che ha pensato prima a sfoltire la Rosa, con la rescissione dei contratti di Salvatore Treppiedi, Samuele D'Agosto, Giovanni Leonardi, Francesco Taormina e Raul Torregrossa, poi a completarla con l'arrivo, fra gli altri, dell'attaccante Tommaso Bonanno dal Santa Maria Cilento, il centrocampista classe 2004 di Belle Speranze Gioele Signorelli, proveniente dalle giovanili del Catania, e Dejana Testoni, classe 2003, cresciuto nel vivaio del Cagliari, che va a incrementare il reparto avanzato di Mister Infantino. Bellissimo, ho avuto un'accoglienza veramente da forse giocatori di altre categorie, perché se lo pare un ambiente così sano, così voglioso di fare bene, oggi come oggi è veramente difficile. Io vi ringrazio per l'accoglienza che mi avete dato. Ma dicembre è stato anche il mese del saluto dello storico capitano Salvatore Di Marco, che ha lasciato di comune accordo con la società dopo 22 anni di emozioni. Dalla Serie D ci trasferiamo nel campionato di eccellenza, dove la Nista nel girone A, guidato dall'Akrakas con 36 punti, ha chiuso la prima parte di stagione a 19 punti e ha una posizione in classifica certamente da migliorare nella seconda parte del campionato. Per questo la società è stata molto attiva nella finestra del mercato invernale, con l'arrivo fra gli altri del difensore Pietro Benivegna, 22 anni dalla Mazzarese, e dell'esterno offensivo classe 2002 Antonio Esposito dal Nibbiano Calcio, che ha incrementato la qualità di esposizione del tecnico a Sferrazza. Un lavoro culato della società nissena per consentire alla squadra di consolidare l'attuale posizione e mantenere a distanza di sicurezza la zona calda della classifica.